...di Pasquale Luce, quindi vado avanti con le tendenze che stava a vota. Lo signor Bernalzani, il signor... ...io, ma anche io sento, anche io ero assente a tutta la mia tendenza... ...ma c'è stata una violazione di sistemo che non puoi non... ...vorrei impedire la violazione dal primo momento. ...c'è stata una violazione di sistemo che non puoi ridarci uno... ...ma no. ...la violazione del sistemo è quello che è diventato massima disponibilità... ...a un ufficio può vedere. ...quindi sulla violazione che si indono... ...ogni consigliere vuole esprimersi... ...perché c'è stato già l'intervento del consigliere Luce... ...c'è stato l'intervento del consigliere Luce... ...ma c'è stato l'intervento del consigliere Luce... ...ma c'è stato l'intervento del consigliere Luce... ...ma c'è stato l'intervento del consigliere Luce, ma... ...non possiamo riprendere dai detti che abbiamo... ...perfeggiato dalla sicurezza del Luce... ...dottiamo riprendere da caso... ...dol'intervento della sicurezza del Luce. ...ma c'è stato l'intervento del consigliere Luce... ...dol'intervento della sicurezza del consigliere Luce... ...che lo compito lì... ...sono stati proteggiati... ...sette voti contrari... ...quando... ...io doveva prendere... ...il consigliere Luce... ...che ha proprio fatto... ...la... ...ditorno... ...quì... ...ani € sì... ...alora il signor Angarello è accetto... ...치… ...esatto... ...la parola a 100% ... ...Angello 5... ...settento i giudici picci... ...num освentimilad bullying ochre... ...per erba vir energy entre cento... ci restanessura trova... ...ch being done nella prova... Altro lato, con 11 punti favorevoli, 12 punti favorevoli, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punti favorevoli. E 5 punti favorevoli, 12 punti favorevoli. E 6 punti favorevoli. E 5 punti favorevoli, 12 punti favorevoli, 12 punti favorevoli. si attra la prova, attraverso tutti i cittadini da 1,5 contratti. Signor Giugno Muglielmo, tendenza di luce di tracce, 2,040,220, e bello 2,040, ci resta la prova, si attraverso la prova, attraverso tutti i cittadini da 1,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di luce di tracce, numero 3.113, esce il consiglio dell'oro, numero 3.113, pagato l'idea 11, per euro 2.200, ci resta la prova, si attraverso la prova, attraverso la 10-12, per l'oro e per il 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, di pace, numero 3.123, pagato l'idea 10, per euro 1.400, ci resta la prova, si attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Ferrando Giuseppina, tendenza di tracce, numero 2.1, 092, pagato l'idea 4, per euro 4.1, ci resta la prova, si attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 57, 24, pagato l'idea 6, per euro 2.600, ci resta la prova, si attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, di pace, numero 5,5 contratti. per euro 5,5 contratti. Per euro 5,5 contratti. Ci resta la prova, si attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 6,8, pagato le 11, 10, per euro 2.700, ci resta la prova, si attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 5,5 contratti. Per euro 5,6, ci resta la prova, ci attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 5,5 contratti. Per euro 2.500, ci resta la prova, ci resta la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 6,5,4, pagato le 11, 10, per euro 2.500, ci resta la prova, ci attraverso la prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 5,5 contratti. Per euro 2.500, ci resta la prova, ci resta la prova, ci diamo una prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 6,5 contratti. Per euro 2.500, ci resta la prova, ci diamo una prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, tendenza di tracce, numero 6,5 contratti. Per euro 2.500, ci resta la prova, ci diamo una prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, numero 6,5 contratti. Per euro 2.500, ci resta la prova, ci diamo una prova, approvato le 11 voti, favorevole 5,5 contratti. Signor Degasino Tampolore, tendenza di tracce, dove il primo 700 non lo ha fatto con il nostro, per euro 2.700, chiesto, secondo la prova, ci diamo una prova, attuale 11,5 contratti, e 5 contratti. Progettivamente, attuale 4,5 contratti. Per euro 2.500, c'è stato il figlio della parte dell'ufficio di Degasino Tampolore, hydro 2.500, c'è stato il figlio della Geron Captain, che è stato il figlio della terra's NSAA, democratico della Hección Tampoli, Mich الع�ani, che hoHHHHH fatto una addoscrizione della lingua pusha al testico death santa, ma怕 another, che la legge delle carrette è stata il PD, allora che la legge delle carrette è stata il schifo, tra signori dalla terra, ragazzi del 24dles, questo brand, c'è stato il figlio dell'opase exciting. Ass potenzia, aggiungi del brando.